Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano la politica con un'ampia pagina dedicata alle lezioni. Plebiscito per De Luca in campagna. Il governatore uscente sfiora il 70% delle preferenze e si riconferma alla guida della presidenza. È stato un risultato di popolo il primo commento dopo la vittoria a De Luca guarda al futuro. Non manca un'analisi del voto nella città di Torre del Greco. Loredana Raia con oltre 26.000 preferenze viene riconfermata in Consiglio regionale, l'unica tra i candidati torresi. Poi abbiamo ascoltato anche i primi commenti dei cittadini nella città di Torre del Greco sui risultati delle lezioni. Spazio anche alla cronaca con il sequestro della Guardia di Finanza in uno stabile dell'Otto Zero, nota piazza di spaccio di Ponticelli. A Napoli i carabinieri hanno arrestato quattro persone per l'omicidio di Ciro Maisto. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Credo che questo risultato sia anche frutto della condivisione del programma che abbiamo indicato per il futuro. Per il futuro abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo, uno soltanto. Il lavoro. Considero questo risultato, un risultato in popolo. Un risultato che ha espresso l'unità delle energie positive, delle forze sane, del mondo produttivo. A scrutini terminati si conferma la vittoria schiacciante del presidente uscente Vincenzo De Luca alle elezioni regionali. Con il 69% delle preferenze pari a 1.759.630 di voti, lo sceriffo rinnova per cinque anni la sua carica, surclassando gli altri candidati. Al secondo posto Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra, che ha ottenuto il 18% dei voti. Segue Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle con uno scarso 10%. Non sono mancati i commenti a caldo dei due candidati sconfitti. Accettiamo il risultato, ha dichiarato Caldoro. Facciamo l'autocritica necessaria, ci rimbocchiamo le maniche e continueremo a dire la nostra, facendo un'opposizione dura, senza sconti. Polimizza invece la Ciarambino. È stata una campagna difficilissima e falsata alle condizioni di partenza. Abbiamo dovuto combattere contro un avversario trasformato al Covid in una star. Il prossimo consiglio regionale vedrà quindi la predominanza ai consiglieri del centro-sinistra, che potrebbero arrivare ad occupare 34 dei 50 seggi. I restanti dovrebbero venire divisi in 9 per il centrodestra e 7 per i pentastellati. Una vittoria annunciata per molti. Infatti, a partire dal primo exit poll, era chiara la vittoria ai De Luca con ampio scarto. Dopo poche ore, il governatore aveva già tenuto una diretta, in cui parlava dei progetti futuri per la campagna. Lavoro ai giovani, la preoccupazione per decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, imprese in crisi. Mi augurerei che anche il governo nazionale facesse sul piano nazionale quello che abbiamo fatto sul piano regionale, un piano socio-economico di sostegno ai settori deboli della società italiana e un grande piano di sostegno alla imprenditoria del nostro Paese. Trionfo del centro-sinistra alle elezioni regionali in Campania. I risultati emersi dagli scrutini parlano chiaro. Il plebiscito per De Luca ha trenato anche liste candidati della sua coalizione. Mario Casillo, già capogruppo PD, si conferma la prima scelta degli elettori campani, dopo aver ottenuto complessivamente 41.990 voti. Altra riconferma assicurata fra le fila dei democratici è quella della consigliera uscente Loredana Raya, seconda dopo Casillo con ben 26.870 preferenze, di cui 3.834 espresse dai suoi concittadini nei seggi di Torre del Greco. Grazie a tale risultato, la Raya sarà l'unica fra i candidati torresi ad accedere al Consiglio regionale. Non sono tardati gli auguri del sindaco Palomba, che in un posto su Facebook ha scritto «Un successo importante anche per la città, che ha una degna e stimata rappresentante in Regione Campania». Secondo candidato più votato ai concittadini è l'ex sindaco Valerio Ciavolino, che con 2.115 voti è l'unico esponente del centro-destra ad aver riscosso consensi nella città El Corallo. 1.744 preferenze da Torre, 5.740 in tutta la circoscrizione per Clelia Gorga. 1.119 per il consigliere comunale Michele Langella, anche per lui un risultato raddoppiato considerando i voti di tutta la circoscrizione. Segue poi l'ex assessore dell'Aggiunta Palomba Monica Ascione, figlia del capo di gabinetto Alfonso Ascione, con 1.013 preferenze. Buono il risultato di Pina e Donna, che con la nonnatalista Per ha raccolto 625 voti. Marco Mano e Clementina Sasso, dopo il passaggio a potere al popolo in sostegno del candidato presidente Granato, hanno ottenuto rispettivamente 264 e 333 voti torresi. Seguono poi il giovane Salvatore Altiero, 213 voti con la lista terra, l'avvocato Salvatore Piro per il partito repubblicano italiano, 177, candida Mennella con centro democratico, 148, e infine la professoressa Giovanna Romano, insieme a democratici progressisti, con 74 preferenze. Vittoria schiacciante è quella del governatore Vincenzo De Luca, che come da pronostico si conferma alla guida della presidenza della regione Campania. Questa mattina ai microfoni di TV City abbiamo raccolto i primi commenti sui risultati elettorali. I cittadini torresi intervistati appaiono per la maggior parte favorevoli al rinnovo dell'incarico e sottolineano l'impegno di De Luca dimostrato durante l'emergenza coronavirus. Per me è un uomo così adeguato alle nostre situazioni, perché quello che lui dice è solo la realtà, poi agli altri non va bene perché comunque non si comportano bene per me, questo è il mio parere. Quindi lei è pro De Luca? Io sono pro De Luca. Speriamo che fanno le cose buone, niente di più. Le ha fatte queste cose buone secondo lei fino ad oggi? Qualcosa sì, qualcosa sì. Io mi auguro una sola cosa, spero che sia un po' meglio, perché comunque chi va va siamo sempre nelle stesse condizioni. Si conferma alla guida della presidenza il governatore Vincenzo De Luca. Un commento a caldo. Io come elettore solitamente voto sempre a destra, però sicuramente l'emergenza sanitaria è stata gestita da De Luca in maniera soddisfacente, nel senso che comunque è riuscito a evitare, almeno in una fase iniziale, poi adesso la situazione sta un po' cambiando, però almeno in una fase iniziale è riuscito sicuramente ad evitare il peggio qua in Campania, quindi mi auguro che faccia il meglio anche nei prossimi anni. Quindi sei fiducioso su questa presidenza, su questo rinnovo? Sì, sono fiducioso. Ha saputo gestire bene durante il lockdown, quindi meglio di questo non si può sperare. Noi siamo felici, io in primis ho votato per De Luca perché ha fatto tanto per il nostro governo, specialmente durante il coronavirus, ma si è visto comunque tutto quello che è stato fatto, quindi felici della sua vittoria. Ha saputo gestire l'epidemia? Certo, assolutamente, rispetto a tutti gli altri governatori dell'Italia, comunque è stato avuto il pugno fermo rispetto agli altri, quindi si è vista la sua presenza, quindi ben fatto. Come secondo i pronostici si conferma alla guida della presidenza il governatore Vincenzo De Luca. De Luca va troppo bene, perché qua ci vuole chi ci deve guidare. Quindi tutto sommato lei è d'accordo con il governatore Vincenzo De Luca e il suo modus operandi? Ho gugliato le mie difese per tutelarmi, però nessuno mi è venuto incontro a tutelarmi. Ci sono i lati positivi e negativi secondo me in qualsiasi candidato, in qualsiasi persona noi diamo fiducia, quindi poi parleranno i fatti secondo me. Ha saputo gestire l'epidemia secondo te il governatore De Luca in questi mesi? In parte, però è un compito difficile, alla fine giudichiamo, però ogni lavoro ha le sue difficoltà. A me mi fa piacere, perché ci vuole qualcuno che veramente fa qualcosa per la nostra campagna. È stato l'unico che ha fatto. Non come il signor Salvini, che ci ha impangato il suo nome, qui a noi torresi e i napoletani. Quindi lei è pro De Luca? Sì. Sono proprio per lui e ci credo in lui. Qualche cosa ci farà sperando a noi napoletani e torresi qua, che stiamo un po' soffrendo un po' tutti quanti noi. Sequestro in uno stabile del famigerato Lotto Zero, nota piazza di spaccio del quartiere di Ponticelli. La Guardia di Finanza ha trovato tre pistole e 48 cartucce occultate all'interno di un intercapedine. In particolare i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, mentre percorrevano via Cleopatra, hanno notato un gruppo di soggetti che alla vista delle pattuglie si dileguava in direzioni diverse. L'attenzione dei finanzieri si è subito concentrata su due soggetti, che accedevano frettolosamente all'interno del vano Scala di uno stabile situato nelle vicinanze, disperdendosi. Al termine della perlustrazione del primo piano del palazzo, le fiamme gialle hanno scoperto di un'intercapedine semichiusa da una porticina di alluminio degli involcri contenenti tre pistole con matricola brasa, di cui due già complete di caricatore rifornito e colpo in canna, e 48 cartucce. Sono in corso accertamenti per individuare i fuggitivi e verificare se le armi siano state usate in fatti di sangue e intimidazioni. Arrestate quattro persone a Napoli per l'omicidio di Ciro Maisto. L'esecuzione era avvenuta il 6 agosto del 2008 nella villa comunale di Secondigliano. Le attività di indagine, fondate su intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri oggettivi, hanno consentito di individuare nei quattro arrestati i mandanti, gli organizzatori ed esecutori materiali dell'agguato. Si trattò di un'epurazione interna del clan di Lauro. Maisto aveva messo in discussione la leadership del clan. In quel momento, retto da Di Lauro Marco, latitante ma presente sul territorio. I vertici del sodalizio decisero, pertanto, di ucciderlo, pensando che potesse tradirli, aderendo agli scissionisti, oppure collaborando con la giustizia. Maisto Ciro, elemento di spicco del clan, è stato assassinato in prossimità del rione dei Fiori, noto come Terzo Mondo, quartiere generale del clan di Lauro. La vittima è stata attirata in un tranello da altri affiliati che lo hanno ucciso esplodendogli contro vari colpi di pistola. Tra i soggetti colpiti alla misura cautelare, figura, in qualità di mandante, Di Lauro Marco, tratto in arresto nel marzo del 2019, dopo circa 15 anni di reperibilità, è già inserito nell'elenco dei latitanti più ricercati a livello nazionale. Come è noto, Di Lauro Marco è stato già condannato, non in via definitiva, per l'omicidio di Romano Attilio, vittima innocente di Camorra, ucciso dai sicari del clan nel 2005. Grazie a tutti i nostri amici.